E su questo non c'è dubbio, ora per esempio l'altra volta abbiamo fatto anche un'intervista sulle api, c'è questo allarme pazzesco sulle api, perché dice che dalle api dipende la vita della nostra terra. E' probabile, ma sarebbe proprio da dargli una medaglia a questo animaletto tanto che poi anche punge e fa male, dal quale dipende la vita del pianeta, bella cosa. Però l'altra volta intervistando un esperto apicultore, in questo caso vi faccio nome e cognome, parlo del professor Pitino che è stato anche presidente della Camera di Commercio parecchi anni fa, ma ora è impegnato proprio nella produzione di miele. Io vi ricordo, gli ho fatto la domanda, ma professore Pitino, ma le api davvero sono destinate a scomparire? Ora io non so se lui è un grande esperto di insetti, ma a un certo punto ha detto, guardi le api sono qui da milioni di anni e sono sicuro che si sanno organizzare e sanno trovare sempre, come fanno tanti altri, adattarsi, perché l'evoluzione, mi ricordo, basta dirlo, guardate che le balene prima stavano a terra, poi si sono evolute e sono andate sott'acqua. Quindi c'è un'evoluzione, nel tempo anche le api troveranno la ragione d'essere. Anche gli uomini si sono evoluti, non tanto, non tanto, però si sono evoluti. Allora, a questo punto dobbiamo dire, ma l'evoluzione, o meglio ancora, la necessità di preservare l'ambiente ha un riscontro nella questione economica? Si può essere concorrenziale, si può essere nazioni che hanno, che possono dire la loro nel mondo G7, G8, che hanno grandi produzioni di qualunque cosa, lo possono fare nel rispetto completo dell'ambiente? Questa è una grande domanda, perché, faccio un esempio, le auto elettriche, ne ha parlato anche la Premier, perché ora vi farò vedere qualche cosa, le auto elettriche si è scoperto che, attenzione, sì, non consumano benzina e carburanti fossili, ma per farle ne facciamo scempi al signore Bonacciù, poi è difficilissimo di smetterle, perché, come le differenzi, queste hanno un costo enorme e le stanno vendendo perché lo Stato ci mette i soldi, insomma, è una situazione davvero paradossale. Ma la cosa più bella è che noi non produciamo auto elettriche, mentre eravamo bestiali per fare auto, non dimentichiamo la Ferrari, la Fiat, quelli che abbiamo avuto, la Lancia, l'Alfa Romeo, eravamo i leader nel mondo ancora, lo siamo, noi ora invece dobbiamo andare a dare ai cinesi la possibilità di fare solo loro le macchine elettriche, perché noi non siamo bene a farli, perché non abbiamo il materiale che ci serve, e quindi andiamo a depauperare le nostre fabbriche, perché poi avete visto la Stellantis, che poi sarebbe la Fiat insieme alla Peugeot, stanno licenziando perché non vendono più macchine, e poi che facciamo? La stessa cosa accade con la questione che qui abbiamo avuto nei giorni scorsi della Versalis, non solo la Versalis, ma anche di Priolo. Cosa sta accadendo? Eni, che guarda alla decarbonizzazione, perché gliel'hanno detto tutti, ah tu inquini quelle ciminiere che fanno fumo, sono davvero uno schifo, compagnia bella, forse lei ne ha detto, sapete che cosa vi dico? cerchiamo un sistema per scongiù, per eliminare questo tipo di ambientamento, però purtroppo bisogna sacrificare i posti di lavoro. E' però bella scoperta, così penso che non è la cosa giusta, tanto è vero che su questa vicenda dell'Eni, che ha detto che investe non so quanti milioni, forse addirittura miliardi, investe miliardi per trovare un sistema alternativo, però cosa fa? Chiude Ragusa e chiude Priolo. Allora, se Ragusa ha cento e passa dipendenti e Priolo ne ha mille probabilmente, e già abbiamo avuto pene con Priolo, perché quando abbiamo chiuso con la Russia abbiamo avuto pene, perché dice questi che cosa raffinano, no? se non gli possiamo portare il petrolio dalla Russia, che è un po', in qualche modo è stato risolto il problema, ora questa situazione è davvero particolare. Sono intervenuti i sindacati di tutti i generi, sono intervenuti a livello locale, nazionale, senatori, compagnia bella. Però ancora non abbiamo risposte serie. La cosa però importante è quello che ha detto la Premier in un incontro di qualche giorno fa. Proprio sulla questione della decarbonizzazione, poi ha parlato anche delle auto elettriche, è un po' quello che ho detto io, però voglio farvi sentire questi due minuti, non di più, sono due minuti, due minuti e mezzo, in cui parla dell'esagerazione, cioè tutti possono essere ambientalisti, ma non ci possiamo impiccare con le nostre stesse mani. Allora, sentiamo cosa dice il Premier su questa storia della decarbonizzazione e sull'ambiente.